Siamo sconvolti Ma Felice, lei è più sconvolta di me, perché ha perso anche gli occhiali, quindi si vede la sua faccia Una buona scusa per comprarmene un paio di cento Sì, non fuori a casa Pensavamo peggio È passato Alla fine si è dormito anche abbastanza, la stazione di Chamay è carina Guardate che carina, non so come cos'è fine Bello Ciò cerchiamo anche dei bagni, por favor Cerchiamo un bagno? Comunque abbiamo fatto circa 600 km invece Mi pare che sia la regia Ma devo guardare bene, poi aggiorneremo Però è andata bene, pensavamo di non dormire, siamo riusciti a dormire Meglio su sto treno che sull'aereo Sì è vero Allora questa è la nostra bellissima stanza Pagata la bellezza di 300 baht Per una notte so Sono 10 euro Sono 10, ma che cazzo 10 Abbiamo la televisione che non capiamo un cazzo Wi-Fi password Wi-Fi password nuovo, un frigo nuovo appena è stato L'avrò messo adesso Qua abbiamo anche del grano lì Cash Con quelli che vanno in tuk-tuk Questa invece è il bagno E' la parte più bella La doccia è questa Attaccata al cesso Fai tutto ensemble En ensemble Va che roba Direi che siamo a posto Noi volevamo farci una doccia La doccia c'è Noi 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 No Noi Noi No 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 ciao giovani vuoi che la tengo io? vai per me puoi andare ma non lo posso fare io amore devo guidare l'asta ok speriamo di non cadere bello anche bello vedere il paesaggio con la fauna e la flora locali siamo al royal park esatto dove lavorano sempre sono un gran lavoratore passano alberello per alberello a fare questo e portano tutto a mano non è che sono come noi che ci hanno tagliastietti no prendo i piedi e spottano gli alberi bene siamo al royal palace che cazzo dici parco parco reale coperto da caso stamattina è una figata enorme siamo anche entrati praticamente quasi per primi quindi tanta roba bello bello è tutto fiorito è tutto un garden non vedo là di fare le foto figo sono un sacco di dei colori e bisognerebbe passare la sotto iniziamo a fare delle belle foto ciao 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 o ciao youtube mail intelligenti che abbiamo fatto tutto a piedi, girando come degli stronzi in su e in giù, comunque qua è molto bello Cosa devo dire? Dove stiamo, dove stiamo? Ah, siamo al Slow Step in International Park Proprio lì, ma stiamo già salendo un po' troppo bene Siamo alti, siamo alti, fa caldo, però si sta bene, adesso paghiamo il ticket se c'è da pagare No, questo no, questo è il biglietto dell'olteria Ah, noi biglietti dell'olteria, se siamo fortunati vinciamo Poi bisogna camminare, però l'aria è gradevole, è fresca C'è, c'è la rina C'è la rina, speriamo che non capiscono C'è la rina, speriamo che non capiscono C'è la rina, speriamo che non capiscono i miei bambini oggi, grazie Io dico solo una cosa, i bambini sono a tavola Capra! Capra! Ah! Ci símbolica! Fri spett